buongiorno cari amici e amiche eccoci qua nuova giornata di viaggio oggi dodicesimo giorno dietro di sono a porto potenza picena e dietro di me il mare e dietro di me la città anche eccolo lì quindi si continuerà andare verso sud questa volta sud delle marche e quindi buon divertimento lì Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.